Ciao GFamily, il Natale pian piano si sta avvicinando e io come da tradizione sono qui ad aprire uno dei tanti calendari dell'Avvento che ho trovato su... Aliexpress! Ma prima... It's GFamily! Hola GFamily and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo super fantastic chic video! Ebbene sì perché come avrete ben capito il Natale si sta avvicinando e come di tradizione insomma io oggi voglio aprire insieme a voi uno dei tanti calendari dell'Avvento che ho trovato su Aliexpress. Raga questo qua è dei Pokémon, l'ho pagato tipo 5-6 euro e in teoria è composto da 24 caselline, in ogni casellina c'è un Pokémon diverso se non erro. Sono curioso del trash che uscirà da questo calendario, comunque dettagli, ma prima di cominciare se ancora non l'avete fatto mi raccomando lasciatemi un bel like a questo video. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della MagicaZoGFamily iscrivetevi tantissimo al mio canale YouTube e inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Perciò followate me e detto questo raga io direi di teletrasportarci immediatamente giù nella mia poststation tra 3, 2, 1 e che il trash sia con voi. Ed eccoci quasi il family finalmente catapultati nella mia magic poststation super mega prontissimi per scoprire cosa si nasconde dentro queste 24 caselline del calendario dell'Avvento dei Pokémon comprato su Aliexpress. Raga la grafica, sì dai carina, abbiamo le 24 caselline tutte in fila quindi non dobbiamo stare qua a perdere tempo a cercare la 1 qua eh. Ogni casellina è caratterizzata da un Pikachu nataloso, qua abbiamo Pikachu e un altro Pokémon e sul retro vabbè Pokémon Merry Christmas con Pikachu. Su raga grafica molto 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 basic però ci piace perché questo è il trash di Aliexpress. Comunque io direi di bando le ciancio e ciancio le bande e cominciamo dalla prima casellina. E ho trovato un Pokémon. Vabbè raga ecco. Questa è la qualità, vabbè per 6€ non potevo aspettarmi niente di che, però sono, cioè vabbè dai carini, tra virgolette, un po' plasticosi, un po' così, un po' giunesi, però carini. Poi andiamo avanti, casellina numero 2. Ehi, zai. Ed ho trovato quest'altro Pokémon. Mamma raga ma sono fatti malissimo. Questo qua si è tutto tagliato male, tipo, vabbè. Dettagli. Andiamo avanti, casellina numero 3. Sì, sto devastando il calendario. E ho trovato questo. Stampati. Sì, ok. Dettagli, andiamo avanti. Casellina numero 4. Questo qua dai, un pochettino meglio. Arriveremo al 24, che avremo un Pokémon fatto bene, finalmente. Casellina numero 5. E... Ah, qua abbiamo usato anche dell'oro per impreziosire il nostro Pokémon. Aiuto! Sì raga, sono molto fake. Ma a me piacciono questi unboxing. Oh dai, questo qua non è fatto male. È fatto, diciamo, leggermente bene. Siamo sempre qua tagliati malissimo dalla stampa. Ok, casellina numero 7. E abbiamo trovato... Aiuto raga, non ce la faccio. Oh my God. Che cos'è ste coso? Oddio. Però non è fatto male. Perfetto, andiamo avanti. Ed ho trovato questo. Almeno un po' di sfumatura di colore. Eh, Aliexpress non posso aspettarmi chissà chi. Poi andiamo avanti. Che eleganza, un po' sporca qua dietro però. Vabbè. Ok. Casellina numero 10. Oh my God, cos'è successo? Cioè raga, ha perso la bocca questo. Oddio. Poi, casellina numero 11. Questo, totally black. Non ha mezza sfumatura. Ottimo. Arrivo, raga. Vabbè. Ok. Casellina numero 13. Sempre più piccoli. 14. Bello. Bello. Mi piace questo. Questo è proprio un Pokémon fatto bene. Casellina numero 15. Wow. Sì. Bellissima. No vabbè, stampa non fatta male. Perché comunque la tridimensionalità delle ali ci sta. Però, wow. Casellina numero 16. E... Carino. Dai, insomma, oddio. Per costare 6 euro. Pensiamo che ha costato 6 euro. Poi abbiamo questo. Fatto così. Casellina numero 18. Ok. Casellina numero 19. Aspettate. Aiuto. Mi è caduto un Pokémon. Casellina numero 20. Mamma, raga. Che triste... Che tristezza questo. Casellina numero 21. Un po' sbiadito, ma ok. Casellina numero 22. Raga, ma anche un Pikachu ho trovato, eh. Questo. Casellina numero... Almeno il Pikachu nel 24. Me lo auguro. Ok. Sì, ma raga, ma hanno stampato anche i dettagli. E nella casellina numero 24 abbiamo, dai, il nostro Pikachu. Che ha passato qualcosa di male, ma... Qua è stato mangiato da un cane. Ottimo. Carino. Molto cute. Molto fake cute. Vabbè, comunque, raga, questa qua era la delusione del calendario dell'avvento dei Pokémon. Vabbè, non potevo aspettarmi chissà chi. E io speravo che erano un po' carini perché volevo farci degli orecchini. Sinceramente. Volevo bucarli sopra e farci degli orecchini. Ma mi sa proprio che la mia idea è un po' fallita. Confido nel calendario dell'avvento del Grinch, sempre che arriva da Aliexpress. Però speriamo, anzi, raga, spoileriamo, c'è già una casella. Giusto per curiosità. Oddio, cosa ho trovato? Aiuto, aspettate. Oh, dai, diciamo... Questi qua sono... Laccati. No, come si dice? Sono smaltati, quindi sono un po' più lucidi e un pochettino più di qualità. Speriamo nel prossimo unboxing. E adesso ritorniamo a noi per i saluti finali. E rieccoci qua, SwirFamily, dopo aver scoperto tutto il contenuto che c'è nel calendario dell'avvento dei Pokémon. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, ma soprattutto vi abbia strappato un sorriso. Perché quello è l'importante. E se è successo così nuovamente, raga, lasciatemi un bel like. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della magica SwirFamily, iscrivetevi tantissimo al mio canale YouTube. Inoltre, vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio, Instagram e la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega kiss swirlloso a tutti, un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimissimo video. Ciao SwirFamily!